Forza toro, è grande toro, la curva canta tutta in coro, il toro è grande, non la so poi, grande toro, grande Walter, Mazzarri, grande Milan, scusate ragazzi, allora voglio salutare Jack Fisher, milanista che mi scrive, mi spiace per il tuo, mi spiace, però godo, che vi devo dire, quando il Milan perde, è disastratissimo, è disastratissimo, quindi è come sparare sulla croce rossa, però ragazzi io godo quando il Milan perde, c'è poco da fare, che vi devo dire, io godo, minchia Giampaolo, comunque Belotti, è grande toro, è forzato, il gallo, minchia è rovesciata, se l'ha alzato per fare il cazzo che voleva, il primo gol bellissimo è stato comunque, ha fatto una bella finta, l'ha messa nel set, Siriu, un miracolo finale, è stata Zaza che scivola da portiere, da solo, non ce la faceva più, morto, morto, comunque, meno male che alla fine è finita come doveva finire, grande Belotti, grande gallo, nazionale, titolare, titolare, titolare nazionale, c'è poco da fare, fisso, fisso, è il nostro bomber nazionale, Comunque ragazzi, si gode, si gode, che si, fortissimo che si, madonna ha fatto una sparata alta, comunque, eh, questo Milan è preoccupante, è preoccupante, oh, Ares Trafino, saluto anche il grande tifoso del toro, commenta anche lui ogni tanto, complimenti, complimenti, grazie di questa gioia che ci stai dando, Ma, non so, un po' di spiaggio perché sto in Mina alla fine, un po' di spiaggio, ma giusto un pochino mi spiaggio, giusto un pochino mi spiaggio, più di così non può fare, più di così non può fare, Non mi aspettavo, sinceramente, una caduta del genere, sinceramente mi aspettavo che al massimo un pareggio a Torino, un pareggio poteva arrivare per il Mina, però, però, questo toro ha tirato fuori il cuore Granata, Bellotti ha fatto due gol pazzeschi, Sirigu, miracolo, poteva finire pure 3-1, eh, poteva finire pure 3-1, però, erano tutti stremati dalla fatica, un campo di merda, perché, ma che schifo, con l'invito è veramente schifo come campo, e, sembra San Siro di un po' di anni fa, ragazzi, mamma mia, che toro, che toro, toro ha 9 punti se non sbaglio, quindi, si conclude finalmente la quinta giornata, e, già, già dal sabato si comincia con, con la sesta, quindi, neanche il tempo di esultare, il toro non so chi incontrerà, forse, gioca l'unidì, no, gioca l'unidì il toro, gioca l'unidì contro, non mi ricordo, non mi ricordo, comunque, ragazzi, si gode, si gode, grande Mila, e forza toro, e, quello è l'altro inno, aspettavo l'altro inno, del toro, aspetta, com'è che fa? e, forza toro, e, forza toro, ok, l'altra quale è, non mi ricordo come fa, la, toro, gra, no, grande, toro, ricordate, qual è l'altro inno del toro, non me lo ricordo più, e, l'ho sentito di continuo, porca miseria, comunque, vabbè, chi se fotte, si gode, si gode, grande Pelotti, grande Pelotti, nazionale, e, Siriu, nazionale, meglio di tornare a Roma, ragazzi, vabbè, se la pareggiano, alla fine, però, Siriu, tanta roba, eh, un gran portiere, no, ragazzi, il toro, ovviamente, è un gran portiere, è un grande attaccante, che, poi, comunque, vabbè, dai, come squadra, non è male, è solo che non ha fatto acquisti, quest'estate, quindi, parte verde, lì, che ha preso, però, non è che si è rinforzata più, sì, l'Axalt, che non so neanche se gioca, sinceramente, però, ragazzi, per il Milan, si fa veramente, veramente dura, crisi nera, crisi nera, Gianpaolo, deve veramente, tirare fuori, conigli dal cilindro, deve fare delle magie, che, in questo momento, proprio, non c'è, la squadra, è proprio, distrutta, questo Milan, distrutto, e, si trova a sei punti, quindi, la Ju, quindi, l'Inter, quanti punti erano? Andrò, me, si è inglese, proprio, proprio, sotto, col binocolo, qui, vediamo, già la quinta giornata, figuriamoci, il fine campionato, come andrà a finire, poi, bisogna vedere, ragazzi, ci vediamo la prossima, allora, iscrivetevi al canale, ho appena fatto il gameplay, stasera, andatevelo a vedere, Sampdoria, Inter, finita bene, finita bene, giocatevi la schedina, perché, sto azzeccando risultati, è il periodo che potrei azzeccarle, anche questo, ci vediamo, domani, dopo domani, probabilmente, dopo domani, con il commento post partita di Sampi, Inter, a meno che, faccia un live, vediamo, vediamo, Voi seguitemi, Are Serafino, un saluto, grande toro, grande toro, anche Alessio, saluto, Alessio, è un tifoso Granata, starà godendo, con un pazzesco anch'io, grande gol di Pelotti, e, Jack Fisher, mi dispiace, mi dispiace per te, ma, questo Milan, ma, già, me l'avevi anche detto tu, devo dire, devo dire, sei dato anche tu molto obiettivo, già, qualche partita fa, non è un Milan che può arrivare, ovviamente, in Champions, perché, di sto passo, già che comincia così, non è, non è proprio una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro, e già, già, si vede già adesso, però, mai dire mai, eh, però, è un quattro settembre, magari, capace che rimonta, fa, vince tutte, però, una squadra un po', così, così, il toro, chissà, il toro, magari, l'Europa League può sperare di arrivare quest'anno, eh, perché no, perché no, alla fine è una squadra molto compatta, ragazzi, a presto, buonanotte, e forzato, non mi ricordo l'altro inno, non me lo ricordo, mi verrà in mente dopo, e forzato, e grandeto, il gallo, il gallo, il gallo, belotti!